Lo avete sentito nei titoli, ancora una novità in arrivo per il Festival di Sanremo. Allora, in anteprima sentiamo da Amadeus chi salirà ancora come super ospite nel palco dell'Ariston. Amici del TG1, sono felice di comunicarvi che un'altra perla musicale si aggiunge al 72esimo Festival di Sanremo. Il primo febbraio balleremo con i Medusa, è una band che naturalmente fa ballare tutto il mondo con la musica densa, è popolarissima e conosciutissima. E devo dirvi che sono tutti ragazzi italiani e di questo siamo felici. E viva i Medusa che saranno al Festival di Sanremo. Per entrare dalla porta principale gli è bastato un brano, era il 2019, Peace of Your Heart insieme ai Good Boys. In 24 ore il contatore di Spotify impazzisce un milione e mezzo di streaming, ora sono miliardi. Il fenomeno Medusa, se non li conoscete tranquilli, conoscete sicuramente i loro brani. Risuonano ovunque, tv, radio, telefoni, spot. Dietro quei pezzi ci sono Luca, Simon, Mattia, i tre italiani più ascoltati al mondo. I Mane Skin della Dance, dal conservatorio alle discoteche, dai remix di artistico Matt Sheeran ai successi planetari. A Sanremo porteranno il loro suono, un suono che al Festival ancora non si era sentito. Tell it to my heart, il loro singolo appena uscito, col cantautore irlandese Hosier, Mission, quasi impossible, trasformare l'Ariston per qualche minuto in una discoteca. 20 e 34 minuti.